Signore e signori, i gemelli di Guidonia! Dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi da topo? Forse in Africa, che importano... 79! O arrivo a 80, per fortuna, così almeno... 79 più 1... E dai! E tu sai, che solo me sceglierai, ora non sai, tu sei il mio unico grande amore... O arrivo! O arrivo! Grazie mille! Grazie.